Anche quest'anno le aziende sanitarie modenese hanno partecipato al Festival della Filosofia ed è stato un successo e il tema del futuro era particolarmente coerente con i programmi per la promozione della salute. In particolare il futuro trova molto spazio nelle iniziative che facciamo sull'ambiente piuttosto che sulle politiche per promuovere le donazioni d'organo o il terzo tema forte è stato quello del fumo che determina 80.000 morti in Italia, quindi tutti i temi che sono strategici per promuovere la salute nei prossimi anni. In particolare con l'ambiente abbiamo portato in piazza degli esperimenti con le associazioni del volontariato modenese. Con il fumo i partecipanti al Festival avevano dei piccoli test da fare, mentre sulla donazione d'organo è stato anche qui un risultato importante incassare addirittura 40 adesioni alla donazione. Il Festival della Filosofia fa parte dell'itinerario che abbiamo intrapreso a Modena per partecipare con la comunità a iniziative sulla salute, dallo stadio all'iniziativa con Agenda 21 piuttosto che con le scuole e naturalmente tutti i professionisti della sanità sono coinvolti in questo progetto, i pediatri libera scelta, i medici di medicina generale che stanno imparando a contaminarsi con la realtà territoriale.